Poracci bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro a essere pubblicato una volta ogni 2-3 mesi. Dopo una pausa prolungata, forzatissima, avvenuta per cause di forza maggiore, un po' per delle sfige tecniche tra telecamere che si rompono e altre cose abbastanza disdicevoli e un po' perché sono stato impegnatissimo, non ho potuto portare avanti questo format. Me ne dispiace tantissimo, ma siamo qua, io e Polpetta, per rimediare al più presto. Questa puntata della terza stagione, ovviamente esistono più stagioni che episodi, nasce un po' con l'intento di recuperare alcune delle notizie che non sono riuscito a trattare durante i TG Poro delle ultime settimane. Questo perché si sono aggiunti tantissimi nuovi rumor riguardanti Switch 2 e non volevo calcare troppo la mano ogni giorno con un video incentrato solo ed esclusivamente sui rumor, su quella che è una console sostanzialmente ancora inesistente. Anzi, spero che abbiate apprezzato nel corso delle ultime settimane il fatto che sto cercando di variegare quanto più possibile il tipo di contenuti che porto qua sul canale. Detto questo, quindi oggi sarà una puntata un po' di catch up, non di catch up, ma di ripresa di tutto quello che ci siamo lasciati indietro, ma vi annuncio già che per i prossimi episodi ho in mente qualcosa di un po' più particolare e più indirizzato verso il lato collezionistico e non dico altro. Detto questo, io vi ringrazio per aver cliccato su questo video, su questo audio Spotify, vi chiedo di supportare il progetto come meglio credete, basta un like o una valutazione a 5 stelle, minimo 5 stelle, e niente, io non so neanche se c'ho ancora la vecchia sigla, probabilmente ho perso tutto quanto, in caso vi beccate quella solita anche di Giporo, ma lo scopriremo solo editando. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Vi è piaciuta la sigla? Era proprio quella che volevo mettere e che avevo in testa sin dal primo momento. Allora, come vi ho accennato, dobbiamo riprendere un po' di notizie, e sono sostanzialmente dei rumor riguardanti, indovinate un po', Switch 2, o la console che nessuno di noi ha mai sentito nominare ufficialmente, ma che ora, notizie delle notizie, è stata già rimandata. Questa cosa mi fa troppo ridere e soprattutto non ci ho voluto fare un video sopra, perché proprio mi sembra anche un po' così paradossale come situazione che sembra un po' una presa in giro, quindi insomma, secondo me queste notizie, sempre notizie tra molte virgolette, vanno trattate un po' per quello che sono, però comunque le prospettive sono interessanti. Allora, 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 eccoci qua, questo è Videogame Chronicles, un sito da cui mi rifornisco ogni giorno per avere le ultime notizie videoludiche, e diciamo un po' la succursale del TG Poro, ma un po' di tutti i content creator a livello mondiale che trattano di notizie videoludiche. Allora, cosa titola questa notizia? Fonti. Nintendo Switch 2, ora sarà lanciata nel 2025. Vi leggo un po' l'articolo, poi ne discutiamo. La prossima console Nintendo potrebbe essere commercializzata più tardi di quanto ci si aspetta, all'inizio del 2025, almeno così è affermato. Questo secondo il giornalista brasiliano Pedro Henrik Lutilippe, grandissimo nome, che dichiara in un nuovo video di Oxdo Controle che ha ricevuto informazioni da cinque fonti separate. Secondo queste fonti, Nintendo sta anche lavorando a giochi che dovrebbero uscire nel primo quarto del 2025 per essere lanciati insieme alla stessa console, che internamente è slittata oltre l'obiettivo iniziale del 2024. Anche Eurogamer riporta che ha sentito bisbigli simili da fonti provenienti all'interno dell'industria, anche se non è stato in grado di validare queste indiscrezioni. Ah, quindi cosa succede? Sostanzialmente, ora ve la faccio breve, vi racconto un po' tutto come si è evoluta la situazione, anzi per fortuna ho aspettato un po' per parlare di questa notizia perché in realtà ci sono stati parecchi aggiornamenti. Allora, a quanto pare all'inizio era un po' nell'aria questa cosa del o ci sono delle fonti anonime di sviluppatori di terze parti che dicono di aver ricevuto da parte di Nintendo la comunicazione che la console non uscirà più a fine 2024 ma uscirà a inizio 2025. Chi ha aperto un po' il baso di Pandora è stato questo video di Ox DoControl, DoControle anzi, dove sostanzialmente veniva riportata questa notizia e proprio in rapida successione ci si sono accodati tutti quanti. Lo ha ripetuto anche VGC, ovvero questo sito, Eurogamer, ho visto NateD8 che anche su Resetira ha detto la sua, infatti vedete qua ci sono tutti quanti gli update, anche Bloomberg si è accodato ai rumor e la sensazione è un po' quella del... la stessa cosa che è successa anche per il direct della scorsa settimana che a questo punto è diventato il direct della prossima settimana è che un po' tutte le testate aspettano che qualcuno dica la sua e ci si accodano. Tutti parlano di fonti più o meno valide e soprattutto di numerose fonti che affermano la stessa cosa. Quindi insomma ci sarebbe questo scenario riportato dai più, partito però comunque da questo content creator brasiliano che come vedremo ci tornerà utile anche per dopo e sostanzialmente dicono no, era prevista per il 2024, adesso uscirà nel 2025 perché il motivo principale è che Nintendo ha intenzione di avere una line-up bella solida, bella robusta per il lancio della console, quindi rischiava di pubblicare la console senza dei titoli di richiamo, ha preferito rimandarla di qualche mese. Questo a sua volta significherebbe anche che diciamo il ciclo di marketing della console potrebbe seguire quello che è stato il lancio di Switch tra il 2016 e il 2017, ovvero la console viene, se inizia a parlare intorno alla metà di quest'anno, viene presentata ufficialmente a settembre-ottobre e poi viene pubblicata a marzo dell'anno prossimo, ovvero marzo 2025. Come scenario, non so, ci può stare per carità, anzi ha anche parecchio senso, mi fa un po' ridere come funziona tutta la comunicazione da parte anche di queste testate molto rispettabili, perché o semplicemente qualcuno ha paura a sbilanciarsi per primo e nel momento in cui c'è qualcun altro che si prende la responsabilità di far emergere fuori queste notizie, gli altri hanno sostanzialmente il via libera e quindi dicono quello che hanno saputo dalle loro fonti, oppure, cosa molto rubabile, nessuno sa niente, appena qualcuno scrive qualcosa tutti quanti lo prendono per vero e ci si accodano. Comunque vi ricordo appunto come è andata con il direct della settimana scorsa, che addirittura doveva essere la prima settimana di febbraio, tutti quanti dicevano che era praticamente pronto, poi improvvisamente il meta è cambiato e tutti hanno iniziato a indicare la settimana questa che sta finendo adesso e io già avevo detto in un video, ma la stessa cosa l'avevano detta la settimana precedente e niente, non c'è stato, probabilmente è stato rimandato a causa dell'evento Microsoft, però fatto stacca adesso tutti quanti dicono, pioro incluso, che il direct arriverà la prossima settimana. Quindi, non lo so, a conti fatti un eventuale lancio nel 2024 o inizio 2025 è una che ci cambia molto, ci aspettavamo comunque di vederla a fine dell'anno, non penso che qualcuno si aspetti di vedere la prossima console Nintendo a marzo o aprile o comunque prima di settembre-ottobre, a livello di tempistiche non è una cosa così drammatica, soprattutto se poi verrà gestita bene la comunicazione a livello di marketing. L'unica cosa, ecco, un po' strana, un po' particolare, è il perdersi il bacino grosso di vendite che può essere quello delle vacanze natalizie. Però, come abbiamo visto con la Switch, se il lancio viene gestito adeguatamente, insomma, si riesce a capitalizzare bene anche sul primo anno di commercializzazione, pure se questo non avviene in un periodo fruttuoso come quello delle vacanze natalizie. Ad esempio Switch fu un grande successo sin dal primo anno e un contributo fondamentale lo diedero sia il lancio con Tears of the Kingdom, con Breath of the Wild, sia l'uscita poi di Super Mario Odyssey più avanti nell'anno, mi sembra, intorno a ottobre, che comunque diede un bel boost di interesse e di vendite a quello che è stato un primo anno molto importante per la console. Quindi, insomma, ci sta che Nintendo stia preparando il titolone di lancio per la console, che a questo punto dovrebbe essere un Mario in 3D, perché no? Anzi, scrivetemi nei commenti o scrivete su Spotify quale potrebbe essere, secondo voi, un grandissimo titolo di lancio per la console. Potrebbe essere anche Metroid Prime 4, ma parleremo anche di questo fra pochissimo. Però, ecco, insomma, l'unica cosa che, secondo me, scombina un po' i piani è questa. È che si diceva, guardate, il direct di questa settimana, diciamo della prossima, sarà un direct mediocre, sarà un partner showcase, perché non ci sono annunci di Nintendo corposi, quindi sarà affidato tutto quanto agli studi terze parti, perché è imminente l'annuncio di Switch 2, che avverrà in un evento dedicato, che non sarà necessariamente un direct, e lo avremo addirittura a marzo, che come prospettiva va benissimo. Sacrifichiamo un direct importante come quello di febbraio per avere una presentazione con i controfiocchi fra un mese. Ma io ci metterei la firma subito, però adesso, a questo punto, se internamente la console è slittata di un mese, cambiano anche questi ipotetici piani? Avrebbe senso iniziare a parlare della console adesso, ma rimostrare anche qualcosa di concreto, di tangibile, quando poi mancherebbe ancora un anno pieno? Non lo so, non lo so. E come al solito, uno dei momenti cruciali per quanto riguarda il ciclo vitale di una console in realtà inizia già prima della commercializzazione della console stessa, ma è fondamentale gestire al meglio il passaggio generazionale tra una piattaforma e la successiva. Come abbiamo visto, è stato un momento critico per tantissimi passaggi generazionali targati Nintendo e speriamo che riescano a gestire bene questa cosa, anche perché la prospettiva di quest'anno la sappiamo benissimo qual è. È un anno fatto al momento di nulla, a parte qualche remake, anche importante per carità, però l'abbiamo visto anche con Mario vs Donkey Kong, i dati di vendita insomma inizieranno a uscire fra una settimana, più o meno potremmo vedere effettivamente quanto, seppur un titolo minore, un titolo con Mario nel titolo, riesce comunque a smuovere le masse, ma anche a livello proprio di percezione mediatica, lo vedo anche sui numeri che fa nel mio piccolo il canale, quando si parla di giochi del genere, è comunque percepito come un remake, è comunque percepito come qualcosa di non nuovo e quindi avrà sicuramente un impatto limitato rispetto a quello che potrebbe essere un nuovo gioco a tutto tondo. Mettiamoci che, a parte questo, c'è Super Princess Peach, che per carità a me non mi sta convincendo per niente, ma non penso neanche possa avere questa risonanza gigantesca a livello di interesse del pubblico, ma poi anche di vendite, e abbiamo il remake di Paper Mario e basta. Altro gioco che comunque, almeno in occidente, sì, per carità, i nostalgici dell'Eragon Cube ci sono tutti quanti, gli affezionati al brand di Paper Mario ci sono, abbiamo visto che il remake di Super Mario RPG è andato molto bene, quindi il genere comunque può fare breccia nel pubblico occidentale, ma non si tratta di un system seller, non si tratta soprattutto di un gioco che ti fa vendere milioni di console. Quindi, non lo so, sembra mancare un po' quella spinta che ci si aspetterebbe da una console Nintendo che sta andando così bene e potrebbe raggiungere dei risultati storici e diventare, se non la prima, almeno la seconda console più venduta di tutti i tempi. Staremo a vedere, però, a proposito di quello che potrebbe succedere in quest'anno, abbiamo, in quest'anno, durante quest'anno, abbiamo un rumor parecchio succoso da parte di Jeff Grabb, comunque un insider bene o male affidabile, diciamo, di sicuro è uno che le sue connessioni ce l'ha, molto spesso però spara anche, la spara troppo grossa, c'è anche da dire che quando ha sbagliato ha chiesto pubblicamente scusa, che, insomma, non è una cosa che fanno proprio tutti quanti, però, sostanzialmente, nell'ultimo podcast ha brevemente menzionato una fonte affidabile che ha descritto nel dettaglio un possibile grande campagna marketing per Metroid che potrebbe, probabilmente, essere avviata intorno a maggio 2024. Che significa? Cosa non significa? Chissà. Si parla da tantissimo tempo del continuo delle riproposizioni della saga di Metroid Prime, della trilogia originale, per ora abbiamo avuto l'anno scorso, presentato tra l'altro durante il direct di febbraio, la bellissima remaster remake di Metroid Prime 1, a questo punto dateci Ecos, dateci Corruption, aspettando Metroid Prime 4, che, come viene ricordato in questo post di Reddit, sono ufficialmente cinque anni che è in sviluppo, quindi, insomma, possiamo iniziare anche a pensare che il gioco, non dico che sia pronto, ma che magari possiamo vedere qualcosa di gameplay o una cinematica, non so, qualsiasi cosa abbia fatto Retro Studios. Quindi, ecco, se c'è da attendere un anno di nulla, almeno che questo nulla sia occupato in modo intelligente e potrebbe essere la presenza di Metroid un bel antipasto a quello che sarà poi il regno di Switch 2. Quindi, abbiamo sostanzialmente un buco clamoroso di uscite, delle potenzialità interessanti per Switch di, diciamo, andare verso il pensionamento comunque in modo onorevole e poi c'è questo Necrofilipe Universo Nintendo, eccetera, eccetera, questo sito brasiliano che ultimamente è parecchio in voga quando si parla di rumor a tema Nintendo che a loro volta si rifanno sempre a questo podcast X2Control e dove credo ci sia all'interno anche Necrofilipe. Insomma, abbiamo capito che gran parte dei leak, che ancora dobbiamo capire se sono affidabili o meno, arrivano da questa frangia brasiliana, così, completamente a caso. E niente, qualche giorno fa, la settimana scorsa, si è parlato proprio delle possibili feature di Switch 2. Come al solito si è ritornato a parlare del discorso della retrocompatibilità. È interessante che a queste parole di Universo Nintendo ci si è agganciato anche Nate D8 corroborando, si dice, non lo so, in inglese si dice qualcosa del genere, però corroborando anche lui questi rumor, dove sostanzialmente si dice, guardate, la console sarà retrocompatibile, e fino a qui lo diamo per scontato, sarà retrocompatibile però non solo per quanto riguarda i software digitali, ma anche avrà una retrocompatibilità fisica, perfetto, questo significa che le vostre cartucce su Switch potranno girare, potranno essere lette anche da Switch 2, che magari, chissà, avrà lo slot dedicato, come accadeva per i primi modelli di DS, che avevano sia lo slot delle cartucce per DS, che lo slot per le cartucce del Game Boy Advance, o come accadeva per esempio per la Wii, i primi modelli, infatti ci potevi inserire dentro anche i minidischi del GameCube. Non solo questo, sarà retrocompatibile al 100%, tutti quanti i giochi saranno avviabili su Switch 2, e non è finita qua, volendo, di caso in caso, gli sviluppatori potranno anche proporre una retrocompatibilità enhanced, ovvero espansa, potenziata, eccetera, eccetera. Cioè, sostanzialmente, potranno essere fatte delle patch next gen, che miglioreranno le performance dei software su questa nuova piattaforma. Quindi possiamo immaginarci degli FPS boost, ovvero una maggiore fluidità di gioco, delle risoluzioni magari non incrementate, ma semplicemente stabili, non ricorrere più alle risoluzioni adattive, che in particolare, penso ad esempio, Xenoblade Chronicles, fanno degradare tantissimo la qualità dell'immagine. Non sarebbe una retrocompatibilità come accadeva un tempo, semplicemente a livello di emulazione, magari hardware o software, ma proprio un qualcosa in grado di dargli anche quel pizzico in più. Chissà però questo come Nintendo deciderà di gestirlo, perché la cosa del creare una console retrocompatibile al 100% è troppo bello per essere vero, e sostanzialmente si perde una grandissima possibilità di monetizzazione, perché ricordiamo che una delle grandi fortune di Switch e di Nintendo stessa è stata quella di poter riproporre a prezzo quasi sempre pieno tutta la libreria Wii U su Switch, come se si trattasse di giochi nuovi a tutti gli effetti, quindi abbattendo i costi di produzione e capitalizzando due per una seconda volta su dei software già venduti. E quindi l'idea del tranquilli sarà retrocompatibile, non ci sarà bisogno di ricomprare, non lo so, Breath of the Wild, Odyssey, Tears of the Kingdom, Rage is Mansion 3, qualsiasi cosa, mi basterà avere la vecchia cartuccia, a me un pochino mi puzza, e anzi così io la butto lì, vediamo, però poi fatemi sapere anche voi nei commenti che ne pensate, secondo me le patch next gen si pagheranno, ovvero il gioco si potrà avviare in modalità retrocompatibilità tranquillamente e andrà esattamente come girava su Switch, poi in certi casi chi lo proporrà, non è detto che sarà fatto, anche perché a quanto pare proprio gli sviluppatori hanno detto stiamo ricevendo delle informazioni riguardanti la retrocompatibilità e la sua possibile implementazione, quindi sarà una cosa che la console non farà in automatico, non è che tu inserisci la cartuccia di Switch 1 e automaticamente il gioco va a 60 fps fissi e a 1080p granitici, non so perché ho detto granitici, comunque queste patch next gen arriveranno di volta in volta, ma si pagheranno, gli upgrade saranno a pagamento, un po' come accade su PlayStation 5, a differenza della PlayStation 5 però non verranno fatti scivoloni di sorta dicendo che inizialmente sì potrebbero essere gratuiti, eh no, li faranno pagare direttamente tutti quanti per evitare poi scenari come accadde con Forbidden West ad esempio, con uno dei più grandi doppi passi indietro di Jim Ryan che la storia ricordi e niente, per me è un'occasione troppo ghiotta per monetizzare una seconda volta, se non addirittura, magari queste patch potrebbero non essere proposte per titoli proprio di richiamo, come, che ne so, un Breath of the Wild o un Odyssey, più un Breath of the Wild, mi immagino ad esempio la patch next gen sarà inclusa all'interno di un pacchetto tipo Ultimate Edition, quindi, che ne so, ti danno i DLC, ti danno il gioco base e in più anche delle migliorie tecniche che non potrai avere semplicemente possedendo la vecchia versione, però sarebbe anche una cosa molto Nintendo da fare, quindi, perché no? Però a questo punto se vogliono proporre le versioni Ultimate, voglio vedere la versione Ultimate di Smash Ultimate, sarebbe, voglio vedere che nome gli danno, sarebbe veramente figo, giusto per creare un po' di casino in più. Quindi, abbiamo parlato di un possibile rimando di una console che non è neanche stata annunciata, abbiamo parlato delle sue caratteristiche tecniche in parte, anzi, delle sue feature, ovvero la retrocompatibilità che non è affatto una cosa scontata, abbiamo parlato di quella che non sarà la lineup di Nintendo da qui ai prossimi mesi, insomma, un 2024 che è ancora un pochino zoppica per quanto riguarda possibili novità, ma soprattutto titoli entusiasmanti non solo da parte di Nintendo, ma in generale, e diciamo che, insomma, il primo banco di prova sarà questo Direct, che comunque, secondo me, a febbraio qualcosa verrà pubblicato, magari non la prossima settimana, allora sarà quella successiva, e diciamo, da come andrà questo Direct, capiremo un po' quale possono essere, come saranno i prossimi mesi della grande N, effettivamente, se sarà un partner showcase, possiamo allora immaginarci che da qui a breve inizieremo a sentire parlare veramente, e non tramite leak, rumor, eccetera, eccetera, ma proprio tramite comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo, della next gen, del successore di Nintendo Switch, e io, in questo caso, sarei molto, molto curioso di vedere quello che verrà proposto. Altrimenti, boh, se c'è un Direct a tutti gli effetti, e magari ci infilano dentro pure Metroid Prime, perché lamentarsi? Tanto, ormai, ragazzi, siamo arrivati all'ultimo anno di Switch, si è capito, da questo momento in poi, anche se Nintendo la presenta un giorno prima del suo, della sua commercializzazione, si è capito che nel 2025, in un modo o nell'altro, avremo questa Switch 2, quindi, c'è tanto backlog, ci sono tante cose da recuperare, ci sono tanti soldi da mettere da parte, tante spese evitabili, e, quindi, non c'è alcuna fretta, vediamo come si evolverà la situazione, vediamo anche come si muoveranno i concorrenti, perché, come dicevo, su PlayStation 5, sembra, non uscirà niente, anche quest'anno, anche se un nuovo Astro, che come diciamo noi romani, Astro sta per, no? Un nuovo Astro's Playroom sarebbe, sarebbe una figata, speriamo, io, me lo godrei parecchio, soprattutto, febbraio al mese di Final Fantasy, e considerando quante ore di gioco ho al giorno, probabilmente, il Rebirth me lo finirò a maggio, quindi, non ho, non ho veramente nessuna fretta, e niente, e questo direi che era l'episodio 3.0 del Porocast, si ricomincia, già sabato prossimo dovrebbe esserci il prossimo episodio, che se tutto va bene, registrerò questa settimana, ma, se il direct si mette di mezzo, probabilmente, dovrete aspettare una settimana ancora, ma, mi impegno a farvi avere il prossimo episodio il prima possibile, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, spero che questa chiacchierata, così un po' più informale rispetto al solito, vi abbia intrattenuto, tenete gli occhi aperti sul canale, perché, comunque, stanno per arrivare nuovi format, nuovi tentativi, c'ho dei format in testa molto fighi, c'è un video che dura, penso una ventina di minuti, che è uno dei più complessi, che ho fatto fino ad ora sul canale, mi ci vuole molto per montarlo, anche per questo, avete visto che ultimamente gli output sono diminuiti, però, insomma, sto anche portando cose, cose molto diverse, spero vi piacciano, spero che abbiate gradito, questo ritorno del podcast, aiutatemi come potete, chiamate la polizia, aiuto, e niente, noi ci vediamo presto, buon fine settimana, fate un po' quello che vi pare, fatelo come vi pare, ma soprattutto, polpettate duro, io sono il poro polpetta, Michele, qua se dorme, ciao. Ehi, 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 fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci, con un piccolo contributo mensile, mi puoi aiutare enormemente, nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense, di tutto rispetto, come retroscena, anteprime, e anche live esclusive, dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione, e ricordati che Poracci si diventa!